Andai, andai da Massimo perché Massimo lo sai che lui è come una banca, è sentire lui Massimo. Massimo è una banca assicurata, è una banca di carne. Forse io sarebbe una banca di grasso. Mediterraneo, signor Sergio Reggio. Se tu sei serena con lui, non lo tradire mai, questo enorme spirito d'acqua è illuminare un marinare. Il mare annuncia roccia, la roccia annuncia altro mare, la roccia è soltanto un'isola, ma non è verso stare. Popolazioni millenarie sono passate di qua, sopra un cargo a difendere. La roccia annuncia roccia, la roccia annuncia roccia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.